Il tuo sogno è stato uno di quei sogni che si avverano, perché quando arrivi alla Juve ai dieci anni il tuo sogno è quello magari di avere la fortuna di giocare in prima squadra. Io oggi ho avuto la fortuna e quindi è stata una bellissima emozione. L'eliminazione di Ute League è stata una delusione enorme, perché pensavamo di potercela fare, alla lotteria dei rigori ci è andata male. La partita di oggi un po' allevia questo dolore, però è una ferita che è ancora un po' aperta. Di quanto è stato difficile quest'anno dividersi tra prima e seconda squadra? Sì, è stata, magari potrebbe essere una difficoltà un po' più psicologica più che fisica, perché devi farti sempre trovare pronto, essere dentro la partita quando ho chiamato in causa, sia sopra che sotto. Però comunque l'ho gestita bene, sono stato aiutato sia in prima squadra che in Under 23, che è un progetto che la Juve sta mandando avanti ed è un progetto fondamentale e quindi mi sono trovato bene. L'Under 23 è un progetto importante, perché c'è il rischio che magari uscendo dalla primavera e ritrovarsi in una prima squadra tu possa ancora non essere pronto a certi livelli. Mentre col passaggio in Under 23 ti confronti già con un campionato adulto e quindi questo ti migliora sotto il punto di vista caratteriale e anche tecnico. Il mister ieri dopo allenamento mi ha dato delle indicazioni più che altro tattiche e poi mi ha detto di stare tranquillo, di giocare come faccio sempre, sia il mister che tutti i compagni mi hanno aiutato, mi hanno fatto rimanere tranquillo e quindi mi sono trovato a mio agio. Il tuo sogno adesso è portare a Roma? Vediamo, le scelte le fa il mister, io mi metto sicuramente a disposizione e se c'è bisogno do il massimo come sempre.